sorpresa da fabio fazio nel corso della puntata di che tempo che fa del 7 novembre in studio in trasmissione in diretta nazionale di fronte ad un pubblico potenziale di milioni di spettatori l'ex ministro dello sport vincenzo spadafora ha fatto coming out come omosessuale si tratta questa di una notizia assolutamente inesclusiva che nessuno si sarebbe aspettato di sentir dire in prima serata un messaggio molto importante trasmesso con tutta la naturalezza del caso della sua sessualità all'ex ministro dovrebbe inoltre aver parlato anche nel suo nuovo libro che ha presentato proprio da fabio fazio in anteprima rivelando quello che il pubblico da casa ancora non sapeva il pentastellato ad un certo punto si è anche commosso il politico ha fatto una lunga pausa prima di proseguire con il suo discorso con gli occhi colmi di lacrime un bel respiro e poi ha proseguito sottolineando un altro punto molto rilevante spadafora ha infatti ribadito il suo essere cattolico una caratteristica che non è così scontata per una persona appartenente alla comunità lgbt io l'ho fatto anche per me stesso ho imparato forse troppo tardi che è importante volersi bene e rispettarsi queste le parole del ministro spadafora di fronte ad un fabio fazio sul pezzo più che mai secondo me da domani lei sarà più leggero e più felice di prima ha commentato il il tema è emerso in trasmissione in particolare alla luce del risultato a dir poco disastroso della recente campagna a favore del ddl zan qualche giorno fa il disegno di legge proposto dal pidino alessandro zan è ufficialmente stato affossato dal senato una sconfitta per una comunità molto attiva sui social che da anni chiede maggiori tutele contro discriminazioni e violenza